Il secondo te, il secondo, il secondo, il secondo te, questo pazzolettino sarebbe un pazzolettino a chiappa cagnolini, secondo, secondo, secondo te, e un pazzolettino a chiappa cagnolini, secondo te, e un pazzolettino a chiappa cagnolini, secondo te, sì. E di che farò un po' sale sul letto, eh? Sì. Buona la prima!